Nel 96esimo giorno dall'insediamento del suo governo, oggi il Premier Mario Monti presso la sede della Borsa di Milano ha tenuto un discorso davanti a una platea di operatori del mondo della finanza, ottenendo di fatto un plauso e un apprezzamento davvero unanime. All'esterno invece in piazza Affari ad attenderlo c'era un presidio di lavoratori in difficoltà lì per contestarlo per loro, per i tanti lavoratori cassa integrati presenti, la Borsa e tutti coloro che oggi hanno accolto Monti sono la causa e non la soluzione della crisi che li sta colpendo. Credo che potremo andare più decisamente a fondo, a fondo in senso buono, fino in fondo, scusate.